Saccheggiavano videococker con un iPhone truccato, due cinesi arrestati a Reggio Emilia dopo la denuncia del gestore dell'impatto. A tradirli, stavolta c'erano lettere camere. Eccoli, due cinesi, 29 e 42 anni, mentre prosciugano l'esolo a una scena. Le pizze arsennati. Sembra una catena di montaggio. Prima di sedersi, uno dei due a un gioco del cellulare o punto al videococker, digita un codice, inizia a toccare. Bastava questo per aggiudicarsi un ottimo da 5.000 euro. Lo azionavano tenendolo nascosto in tasca. Guardate ogni volta che uno dei quelli di iPhone truccato, scontano le carte già programmate, ma non promettesse in una lucida. Qualcuno si avvicina incredulo e lo scroscio di monete in continuo. Molti carabinieri li hanno osservati all'uscita del bambino e tra segnalazioni del titolare, sospettito da un'altra settimana, avevano dettagli e portati i moneti della migliaia di euro, con le applicate per rispondere la lucidità del mercato. E con lo stesso sistema, le fonti della migliaia di euro, con le applicate per rispondere la lucidità della migliaia di euro. E con le applicate per rispondere la lucidità della migliaia di euro, con le applicate per rispondere la lucidità della migliaia di euro. Durante maggior tempo, predisponevano, condizionando potenzialmente, il sistema sulla vincita. An analoghe, tussi e gravate sono state perpetrate in Zul, in Toscana e anche in Emilia Romagna. Grazie. Grazie.